Questo video riguarda i migliori 3 imperdibili gadget Nintendo Switch. Il vincitore della qualità è l'Horzli Kit Accessori. Il pacchetto Horsli Geek include tutto il necessario per sfruttare al meglio la tua console Nintendo Switch. Sono inclusi accessori essenziali come custodie protettive e protezioni dello schermo per iniziare. Il pacchetto include anche accessori fantastici che ti aiuteranno a migliorare la tua esperienza di gioco su Nintendo Switch. Horsli Carry Case e Tempered Glass Screen Protectors for Nintendo Switch, Switch Racing Wheels, Switch Joy-Con Grips, Joy-Con e Pro Controller Charge Station, Switch Comfort Grip Case, Playstand, Cartridge Case, Airphones, USB Cable, Stylus. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'A-Stop Custodia Nintendo Switch. Custodia rigida in EVA per il trasporto protegge il tuo interruttore barra interruttore OLED mentre il morbido materiale interno mantiene il tuo dispositivo libero da graffi. Dispone di 20 carte da gioco e un componente con cerniera che si adatta per una presa comoda, adattatore di alimentazione, cavi e altri accessori più piccoli. Il supporto per il gioco offre tre angoli di visualizzazione e una migliore esperienza di gioco. Design unico con ingresso cavo di ricarica, leggero, pieghevole e tascabile, comodo da trasportare. Comunemente utilizzato per Switch Switch OLED Joy-Con, il design del palmo curvo riduce l'affaticamento della mano e offre un'esperienza ultra-confortevole. Copertura completa HD-Pet, design super sottile e robusto, la protezione per lo schermo della console offre la massima sensibilità al touchscreen e protegge gli occhi. Il vincitore del premio è l'Orzli Accessori per Nintendo. Una custodia da viaggio nera, una copertura per cartucce, una custodia comfort grip, un cavo di ricarica USB, una cuffie stereo portatili, due pellicole protettive in vetro temperato. La console Nintendo Switch, i Joy-Con e i giochi, mostrati nelle immagini hanno scopo puramente dimostrativo e non fanno parte di questa confezione. Per qualsiasi ulteriore informazione su questo kit, ti preghiamo di consultare la descrizione del prodotto al centro della pagina Amazon. Sapevi che molti dei prodotti contenuti all'interno di questo kit possono anche essere acquistati singolarmente. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.